Ciao, sono Aurelio, a CityZen pratico la riflessologia del piede, pratico dei massaggi sul piede, trattando il piede trattiamo altre parti del corpo. In progetto abbiamo un talk per spiegare che cosa intendiamo per riflessologia del piede e perché utilizzare la riflessologia del piede come rieditura. Con la mia collega vi illustreremo, Daniela Norcatello, vi illustreremo perché utilizzare il massaggio al piede per ritrovare il nostro equilibrio e faremo appunto questa spiegazione, illustreremo cosa intendiamo per riflessologia del piede, la riflessologia del piede è proprio riportare tutto il corpo su una parte, in questo caso i piedi, e andremo a vedere, a spiegarvi che cosa si può leggere sul piede e come poter trattarlo, massaggiarlo per aiutare la persona per superare alcune difficoltà, difficoltà che possono essere delle difficoltà fisiche o anche delle difficoltà emotive. Oltre a farvi questo talk, oltre a farvi, a illustrarvi che cosa intendiamo per riflessologia del piede e come possiamo praticare e leggere alcune informazioni che ricaviamo dal piede, faremo fare delle mini esperienze alle persone che sono presenti, proprio per riconoscere sui propri piedi cosa sono, cosa sta manifestando il piede e come può aiutarsi a ritrovare dei piccoli equilibri, dei piccoli miglioramenti anche soltanto facendosi dei piccoli automassaggi. Buona giornata a tutti e vi aspetto per il prossimo talk di informazioni.